Oggi ragazzi andiamo a vedere tutte, ma proprio tutte, le novità che Adobe ha inserito nel corso del 2023 in Illustrator. Prima però vorrei ricordare velocemente a tutti gli appassionati di logo design che il giorno 30 di settembre alle ore 21 andremo a chiudere per sempre il nostro corso Logo Hero. I motivi di questa chiusura li abbiamo spiegati su questa pagina raggiungibile al link che vi lascio qui sotto in descrizione e di conseguenza ragazzi vi rimangono ancora poche ore per poter acquistare il percorso formativo prima che sia troppo tardi. Pensate che Logo Hero ha formato oltre 900 logo designer in tutta Italia e ha permesso loro di acquisire nuove tecniche, nuove strategie, in generale di migliorare i progetti ma soprattutto di incrementare i guadagni. Perfetto, detto questo entriamo subito in Illustrator, in questo video io userò la versione Beta 2024 e vediamo subito una delle prime nuove funzioni che sfruttano l'intelligenza artificiale. Mi riferisco ad un nuovo pannello che in realtà ho già trattato in altri video, il quale sfrutta proprio questa intelligenza artificiale per ricolorare in automatico le nostre illustrazioni o più in generale le nostre immagini vettoriali a partire da un testo descrittivo, il cosiddetto prompt di testo. Quindi anche dentro Illustrator come in Photoshop avremo a disposizione un campo di input in cui potremo descrivere in questo caso la palette di colori o piuttosto che il mood che vogliamo applicare alla nostra illustrazione. Facciamo un test e vediamo un po' come funziona questa tecnologia che sono sicuro tornerà parecchio utile soprattutto a chi si occupa di illustrazione. Vado a selezionare il mio disegno, la mia immagine vettoriale, mi sposto su modifica, scelgo modifica colori e faccio clip su nuova ricerca del colore generativo. Si aprirà questo pannello che possiamo spostare ovviamente dove vogliamo e che possiamo chiudere con il tasto ESC visto che non abbiamo nessuna iconcina a forma di X che ci permette la chiusura e all'interno troviamo proprio questo campo di input di cui vi parlavo il quale, vedete, permette di descrivere la tavolozza colori, lo stato d'animo o il tema che desideriamo generare per cui direttamente qui non possiamo scrivere e descrivere i colori che dovranno essere generati nella nostra illustrazione. Se non sappiamo quali colori andare a descrivere possiamo sfruttare queste istruzioni, questi predefiniti per cercare perlomeno di capire un po' come funziona questa tecnologia. Io consiglio sempre di andare a digitare delle descrizioni in inglese perché funzionano sempre meglio visto che Illustrator ha un motore di traduzione interno che quando noi digitiamo una parola in italiano lui la va a tradurre automaticamente in inglese quindi è sempre meglio partire dal testo inglese, da una frase inglese per evitare poi errori in fase di traduzione. Qui vedete che tra l'altro questi prompt sono in italiano quindi possiamo provare a vedere cosa succede. Non so, clicchiamo per esempio su Deserto di terracotta lui vedete dopo qualche secondo andrà a generare 4 varianti, 4 miniature della nostra illustrazione con le palette di colori vedete che secondo lui si rifanno a un deserto di terracotta. Non so neanche cosa voglia dire però lui ha creato vedete queste 4 versioni che semplicemente noi cliccando le possiamo andare ad applicare alla nostra immagine e che vanno appunto a ricolorare automaticamente la nostra illustrazione. Possiamo generare infinite varianti, almeno per ora, finché non troviamo la palette che ci piace. Quindi questa è un po' la prima novità, la novità che riguarda soprattutto l'intelligenza artificiale. Vediamo la seconda, un'altra novità veramente molto molto interessante notato che tra l'altro con gli ultimi aggiornamenti è migliorata parecchio sto parlando del nuovo pannello Retype che vado subito a richiamare eccolo qui Retype che tra l'altro è ancora in versione beta. A cosa serve e come funziona questo pannello? Permette di identificare un font a partire da un'immagine raster come potrebbe essere questa, vedete che è un'immagine composta da pixel o da un testo convertito in tracciati. Qui vedete che ho posizionato un'immagine raster con diversi testi e ho convertito un testo in tracciati. Il font che avevo applicato l'ho scritto qui per ricordarmi che è l'Active Regular. Vediamo un po' come funziona questo strumento. Ora vado a selezionare quest'immagine e supponiamo di voler andare a identificare il font che è questo cari display. In questo caso io so già quali sono i font perché sono scritti però metti caso di avere per esempio un altro testo e di non sapere qual è il font. Possiamo sfruttare questo pannello, andare a selezionare l'immagine, cliccare su Entra. Vedete che ogni scritta verrà circondata da questa sorta di selezione rettangolare. Noi potremo andare a cliccare sul testo da analizzare e dopodiché automaticamente il pannello ci restituirà quello che secondo lui è il font che si avvicina maggiormente a quello selezionato. Una cosa importante da sapere è che questo pannello va a cercare i font presenti nel nostro dispositivo e i font presenti su Adobe Fonts. Quindi se si tratta di un carattere tipografico scaricato da un altro sito, potrebbe essere Google Fonts o un font gratuito preso dalla fonts.com, probabilmente questo strumento non lo potrà identificare. Quindi permette di identificare un font, ora sappiamo che questo è il font Cari Display Pro Regular, con un doppio clic, vedete, va a sostituire il font presente nell'immagine con un testo completamente modificabile ed editabile dentro Illustrator. Questa è la figata più importante secondo me perché possiamo convertire un testo presente in un'immagine raster o anche un testo come adesso vedremo convertito in tracciati in un testo completamente modificabile. Quindi non solo adesso dentro Illustrator possiamo convertire un testo in tracciati, ma possiamo anche effettuare l'operazione inversa e tornare quindi indietro. Ok, vedete che io ho convertito questo testo, si trova sempre dentro l'immagine, io posso comunque separare i vari elementi e spostare, vedete, il testo al di fuori. Tra l'altro lui ha automaticamente anche cancellato la scritta presente nell'immagine raster. Vediamo anche di convertire questo testo, vado su Entra, lui andrà a identificare, vedete, l'Active Regular. Io posso andare a selezionare parola per parola, purtroppo non ho ancora capito come selezionare tutto insieme. Faccio un doppio clic sul primo riquadro e lui, vedete, mi va a convertire il testo in un elemento di testo indipendente. Questo è quindi un altro pannello che secondo me ci tornerà parecchio utile durante il lavoro di tutti i giorni. Speriamo che con il tempo venga migliorato. Comunque vi ricordo che è ancora in versione beta, quindi mi aspetto delle migliorie da qui ai prossimi mesi. Vediamo anche, ragazzi, la terza novità che ha a che fare con il pannello livelli, che è stato migliorato a livello di filtri. Infatti, se noi andiamo nel pannello livelli, vedete, qui ho posizionato diversi elementi, diversi nel senso che ho una forma, ho un testo, un gruppo, un elemento 3D, un'immagine e un tracciato, perché voglio farvi vedere che adesso è possibile andare a filtrare, vedete, gli elementi per tipologia. Quindi possiamo decidere di vedere all'interno del pannello livelli tutte quante le immagini collegate. Sarà sufficiente cliccare su file collegati, vedete che lui andrà a mostrarci, in questo caso abbiamo soltanto un'immagine, tutti gli elementi collegati. Oppure dobbiamo identificare, per esempio, tutti gli elementi che hanno degli effetti. È molto semplice, basta cliccare su effetti e lui ci andrà a mostrare, vedete, tutti gli elementi che possiedono effetti. Quindi vogliamo, non lo so, vedete che possiamo anche combinare più filtri, quindi in realtà adesso io dovrei deselezionare file collegati, deselezionare effetti e, non lo so, andare a identificare soltanto i testi. Vedete che lui ci mostrerà soltanto l'elemento di testo disponibile. Questa qui non è una nuova funzione, ma è un miglioramento che è stato implementato nel pannello dei livelli. Un'altra novità invece delle ultime versioni di Illustrator, l'avete sicuramente vista adesso che stavo selezionando i vari elementi, è questa barra che appare sotto gli oggetti che andiamo a selezionare. Questa qui è la barra dell'attività contestuale, così la chiamata Adobe la troviamo anche in Photoshop, può essere attivata e disattivata anche dal menu finestra. Vedete che abbiamo barra dell'attività contestuale e fondamentalmente permette di chiamare, come vedete, alcune opzioni che troviamo anche in realtà nei vari pannelli piuttosto che nel menu superiore. Le quali ci permettono di lavorare più velocemente senza quindi doverci spostare a destra e sinistra nell'area di lavoro. Abbiamo tutto quanto direttamente qui o comunque abbiamo le opzioni più utilizzate, quelle che di solito richiamiamo con più frequenza e ripeto queste ci faranno sicuramente risparmiare un bel po' di tempo durante il lavoro quotidiano. Vedete che selezionando per esempio un testo io potrò cambiare il font, la dimensione, il tipo di testo, quindi testo in area o testo indipendente, lo potrò andare a convertire, tutte varie, ripeto, opzioni che di solito tendiamo a richiamare con maggior frequenza. Per quanto riguarda un gruppo vedete io lo posso separare, lo posso andare a ripetere a mo' di griglia, speculare eccetera eccetera, lo posso duplicare, bloccare. Per quanto concerne invece le immagini, vedete immagini collegate, io posso andare a richiamare e ricalco immagine. La maschera posso collegare o scollegare un'immagine, la posso modificare in Photoshop, quindi è sicuramente uno strumento che esattamente come su Illustrator per iPad ci tornerà molto utile. Mi aspetto comunque che nelle prossime versioni venga ulteriormente implementato visto che attualmente abbiamo ancora poche opzioni. Un'altra novità di queste ultime versioni di Illustrator è la possibilità di creare dei mock-up senza passare da Photoshop. Sarà sufficiente infatti avere a disposizione un'immagine raster, un'immagine che rappresenta un modello, potrebbe essere questo sacchetto, e un elemento vettoriale. Vediamo come andare a generare quindi un mock-up, ovvero come applicare questo logo al sacchetto in questione. Sarà sufficiente andare a selezionare i due elementi, come ho fatto in questo momento, andare su oggetto, modello, anche in questo caso vedete che abbiamo a che fare con un'opzione ancora in beta, e scegliere crea. Ok, vedete che l'elemento viene applicato automaticamente sul nostro modello. Io lo posso andare a spostare perché comunque rimane a tutti gli effetti un elemento vettoriale modificabile. Attorno abbiamo queste maniglie che permettono di scalare o distorcere la forma, ma anche di ruotarla. Quindi vedete, il logo è stato applicato nella corretta prospettiva su questo sacchetto. E ripeto, rimane al 100% modificabile. Se volesse rilasciare il modello, potrei tornare su oggetto, modello, rilascia. Ok? E tra l'altro, connessa a questa funzione, abbiamo anche il nuovo pannello modello, anch'esso in versione beta, il quale, come vedete, va automaticamente ad applicare il nostro logo a delle immagini che automaticamente sono state prese dal servizio Adobe Stock. Per cui, direttamente in questo pannello abbiamo diverse sezioni, vedete la categoria abbigliamento, la categoria grafica e branding, dispositivi digitali, piuttosto che confezionamento. E all'interno di ogni sezione abbiamo delle immagini. Qui abbiamo immagini di packaging, vediamo grafica e branding, abbiamo per esempio questo biglietto da visita. Io potrei prenderlo, cliccare su questa iconcina e andarlo ad inserire rapidamente dentro il mio progetto. Vedete che questa è un'immagine di Adobe Stock, quindi per utilizzarla in ambito commerciale dovremmo anche acquistarla. Però questo è sicuramente uno strumento interessante perché applica con un solo clic il nostro logo, la nostra grafica su tutti quanti gli elementi. Torno un attimo indietro, quindi rilascio il mockup perché voglio mostrarvi un'altra novità che riguarda sempre le immagini collegate o scorporate. Duplico un attimo quest'immagine e vi faccio vedere che adesso finalmente è possibile andare ad incorporare e a scollegare più immagini contemporaneamente con un solo clic. Quindi io volendo potrei incorporare queste due immagini che sono collegate, ma vedete le potrei anche scorporare con un solo clic. Quindi posso cliccare su scorpora, il software aprirà la finestra di salvataggio, potrò salvare le due immagini in PSD o TIFF direttamente sul mio computer. E questo è sicuramente un ottimo modo per risparmiare tempo, visto che prima per scollegare delle immagini era obbligatorio procedere singolarmente. Un'altra novità di questa versione di Illustrator 2024 beta riguarda la conservazione dei collegamenti ipertestuali, i link, all'interno dei nostri PDF. Prima per inserire un collegamento in un PDF era necessario eseguire diversi passaggi. Ora finalmente la procedura risulta molto molto semplice, ve la faccio vedere subito. Vado a selezionare questo elemento creato con un rettangolo e un testo. Apro il pannello attributi, il quale mi permette di inserire, faccio mostratutto, di inserire o di applicare un link su questi due elementi. Quindi semplicemente su mappa immagine seleziono rettangolo e in questo URL inserisco il mio indirizzo web. Faccio per esempio https2.google.it. Ok. A questo punto io ho applicato un URL, un collegamento ipertestuale, su questo pulsante. Vado a salvare il tutto in PDF, ctrl command s, avevo già salvato precedentemente il PDF. E vi faccio vedere, aprendo il PDF con Acrobat, che se mi posiziono con il cursore sul pulsante, vedete, e faccio un click, mi porterà su proprio google.it. Ok? Per cui la creazione di PDF con all'interno dei collegamenti ipertestuali adesso risulta molto molto più agevole. Un altro piccolo aggiornamento che ho notato in queste ultime versioni è la possibilità di, vedete, copiare velocemente il codice esadecimale di un colore. Prima era necessario andarlo a selezionare e fare un copia. Invece adesso è sufficiente cliccare sul cancelletto, vedete, per andarlo a selezionare. Lo possiamo fare sia direttamente in questa finestra selettore colore, ma anche all'interno di un campione colore. Vedete, faccio un doppio clic e anche qui trovo il cancelletto che mi permette di selezionare il codice esadecimale di questo specifico campione. Vediamo adesso qualche piccolo aggiornamento legato allo strumento intreccia, il quale, come vi ricordo, permette letteralmente di intrecciare delle forme vettoriali senza dover ricorrere a maschere di ritaglio o maschere di opacità. Vando quindi a selezionare questi due elementi che voglio intrecciare, mi sposto su oggetto, intreccia, crea. Decido per esempio di far passare questa porzione di tracciato al di sotto della lettera H. Lo posso fare semplicemente cliccando, vedete, in questo caso lui si nasconde automaticamente. Oppure posso attraverso il tasto shift creare una sorta di selezione rettangolare per indicare al software qual è l'area che voglio andare ad intrecciare. Oppure se avessi a disposizione per esempio un terzo tracciato, vado a crearlo molto velocemente in questo modo, potrei fare sempre la stessa cosa, quindi andare su oggetto, intreccia, in questo caso vado a rilasciare e torno poi su oggetto, intreccia, crea. Vedete, posso andare a creare sempre la mia selezione rettangolare con il tasto shift. Questa vedete verrà mantenuta e da questo momento in poi io posso decidere quale dei due elementi o dei tre elementi, perché c'è anche la lettera H, posso fondamentalmente spostare sui vari piani. Quindi posso decidere per esempio di spostare dietro soltanto questa riga verde. Quindi faccio un grigio con il tasto destro, vedete, posso scegliere di portare avanti, indietro, sotto, esattamente come faccio con i vari livelli. Quindi posso portare indietro l'elemento, vedete che verrà spostato dietro, ma volendo posso anche decidere di portare avanti soltanto quest'area qui. Per cui oggetto, intreccia, modifica, ripeto la selezione e faccio questa cosa. Ok, vedete, non è precisissimo, purtroppo a volte c'è qualche piccolo bug, ma sono stato in grado di intrecciare questi elementi senza creare maschere di ritaglio o di opacità. Le ultime novità che voglio mostrarvi riguardano il pannello di esportazione, il pannello esporta per schermi, quindi vado a prendere un documento qualsiasi che avevo creato in precedenza, per esempio questo. Supponiamo per esempio di voler esportare questi elementi, li vado a selezionare, tasto destro, raccogli per l'esportazione come risorse multiple, quindi voglio andare a esportare questi elementi come risorse separate. Vado a fare un po' di pulizia qui sotto. E la prima novità è legata ai predefiniti. Da notare che qui abbiamo radicitura iOS e Android. Se clicchiamo su iOS, vedete che vengono inserite tutta una serie di voci, le quali consentono di esportare velocemente questi vari elementi in diversi formati e con diverse dimensioni, in base a quelle che potrebbero essere le risorse richieste per esempio per un'applicazione di iOS. La stessa cosa vale per Android, quindi abbiamo a disposizione dei predefiniti. Però cliccando direttamente qui su questa iconcina possiamo anche creare i nostri predefiniti. Quindi se per esempio volessimo esportare queste risorse in PNG a 1x piuttosto che in JPEG a 2x o in addirittura, vediamo un altro formato PDF, ok, mettiamo caso che queste siano le impostazioni che utilizziamo più spesso, possiamo salvare il predefinito e richiamarlo poi in qualsiasi momento direttamente da qui. Ok, oltretutto è stato recentemente aggiunto anche il formato di esportazione WebP, che per chi non lo sapesse è un formato alternativo al JPEG sviluppato da Google, il quale consente di mantenere i file più leggeri con una qualità maggiore. Ed è un formato che sta prendendo piede negli ultimi anni, ripeto, sul web. E finalmente è stato aggiunto anche come formato di esportazione in Adobe Illustrator. Lo possiamo selezionare in questa finestra, ma anche nella finestra esporta come. Quindi file, esporta, esporta come. Lo troviamo, vedete anche qui, il formato WebP. Perfetto ragazzi, mi sembra di non aver tralasciato nulla. Queste erano dunque le novità che Adobe ha introdotto nel 2023 dentro Illustrator. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciate un bel like sotto questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nella prossima lezione.